I carabinieri della compagnia di Petilia Policastro e il personale della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza di custodia catolare in carcere nei confronti di tre persone, di cui uno è considerato il capo della cosca di Andrangheta, attiva a Rocca Bernarda e nei comuni limitrofi, già condannato in via definitiva e attualmente al 41 bis. Ai tre vengono ascritti reati di estorsione, danneggiamento e turbata libertà della scelta del contraente, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Le indagini scaturite dall'operazione Trigarium hanno permesso di accertare come dal 2009 al 2017 ben 101 appalti per la realizzazione di lavori elettrici per 172.335 euro fossero stati affidati tutti ad una stessa ditta, riconducibile ad un soggetto appartinente al locale clan mafioso, il quale aveva sostanzialmente ottenuto il monopolio di tutti gli interventi. Inoltre sono state accertate le responsabilità del taglio di 103 piante di ulivo a scopo intimidatorio a danno di un docente di Santa Severina a causa del diniego del pagamento del pizzo al capo Cosca per la costruzione di un elificio. Anche l'incendio doloso verificatosi nell'aprile del 2015 di un furgone intestato ad una ditta individuale di Rocca Bernarda, operante nel settore dei lavori elettrici, è riconducibile agli stessi soggetti che non volevano che il suo titolare partecipassse alle gare per l'acquisizione delle commesse pubbliche o ad accertare lavori da privati. Oltre agli arresti, i carabinieri hanno posto sotto sequestro i conti correnti intestati all'azienda di uno degli arrestati, titolare di una ditta di lavori elettrici del luogo, fino al raggiungimento di 160.000 euro.